Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Voglio condividere con tutti voi una notizia che sta facendo il giro del web in questi giorni. Si tratta del ritorno di Anonymous e di una sua rivelazione scioccante. Per evitare censure preferisco postare il video sul sito di EarthLive 2.0. Il link del video lo trovate in descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.